Ciao a tutti, questo è un altro video tag, mi è venuta la mania dei video tag, per il tag per il mio tempo, cominciamo subito, questo video tag è tale che l'idea Tognacchetta, saluto, e volevo rispondere anch'io finalmente a questi video tag, iniziamo subito. Prima domanda, il tuo prodotto di makeup preferito in assoluto? Allora, il prodotto di makeup preferito in assoluto è, che ho scoperto ultimamente, è occhioni e mascara di Mami Cosmetics. Ma la cosmetica preferita sia per ombretti che per osetti. Allora, la cosmetica preferita sia per ombretti che per osetti. Allora, ma la cosmetica preferita mi piace molto la Kiko, mi piace molto la Essence, anche se non... non posso utilizzare molto, e nei miei cosmetici. Sono le mie mie preferite. Un capo di inviamento indispensabile, i leggings, i pantaloni Aram. capelli al top, a me piacciono un po' meglio adesso, abbastanza lunghi e mossi, le guanze che vorrei avere ancora più lunghi. Il colore perfetto è il colore perfetto da indossare. Il colore perfetto è il viola, assolutamente. E il colore perfetto da indossare è il mio. Per i signori tatuaggi ho solo le bocchie e le orecchie. Tocco leggero, carico, leggero. Un'accessuale centrale nel tuo look. Sono io e Kiko. Smalto o gello. Per ora, niente, una manicure molto basica. Bolsa grande o piccola piccola. Amate del bio, sì o no, sì. Pacchio e scarpe basse, scarpe basse. Quanti abitivi nel vestiario, diciamo che mi resta abbastanza comodo, quasi troppo. Matto, shimmer, matto. Cita una fase famosa, si sta come l'autunno sugli alberi e le fogne. Spero che il video tag vi sia piaciuto, è un video tag breve. Cerco di fare il più breve possibile, sennò parlare per ore. Comunque, spero che il video tag vi sia piaciuto. Ciao a tutti. E se volete rispondere ovviamente potete rispondere giù nei commenti, con le vostre risposte, oppure facendo un video. Ciao.